Siamo con il professor Laurelli in compagnia del professor Pollio, che è l'oculista personale di Massimo Oddo. Allora, questo centro oculistico che si trova nel capoluogo è frequentato anche da sportivi, professore? Sì, la sanità molisana non è solo polemica e disagio. La sanità molisana ha anche degli aspetti di eccellenza, non perché il centro sia mio, ma perché se riusciamo a richiamare anche personaggi del calibro di Oddo, vuol dire che il nome che gira del Molise e quindi della sanità molisana è un nome molto buono. Io, come il dottore Pollio, che è il medico personale di Oddo, che si è occupato della gestione preoperatoria e postoperatoria, insieme abbiamo operato, non vi dico chi, perché per ragioni ovviamente di riservatezza. Siamo molto contenti di quello che succede, perché finalmente questo dimostra con i fatti che qui si può lavorare molto bene, molto bene nel pubblico, si può lavorare molto bene nel privato e nel privato accreditato, evitando ovviamente ogni possibile polemica, secondo me, assolutamente inutile e inopportuna. Affluenza dunque anche da altre regioni, affluenza massiccia in un centro che usa delle tecniche nel campo oculistico davvero all'avanguardia? Sì, noi abbiamo da poco chiuso un contratto con una multinazionale che si chiama Alcon americana, dalla quale abbiamo acquistato un nuovo laser, è un robot per la chirurgia oftalmica, si chiama Femto Laser, che stiamo installando in questi giorni. Noi abbiamo una percentuale di pazienti che vengono da fuori regione dell'84%, quindi abbiamo la maggior parte dei nostri pazienti, sono pazienti fuori del Molise. E questo è un problema, perché? Perché a volte i pazienti molisani, per ragioni molto complicate, di budget, eccetera, non riusciamo ad operarli, non riusciamo a curarli in modo opportuno. Quella che, come dire, la preghiera che vorremmo fare, anche, come dire, alle istituzioni, penso alla Regione, ma anche alla Asrem, è di darci più spazio per i molisani, perché se è vero che Oddo viene qui ad operarsi, probabilmente questo è un centro che in qualche modo funziona. Allora diamo questa possibilità anche ai nostri contri regionali. Professor Pollio, dunque, la scelta del tecnico del Pescara Oddo è ricaduta senza mezzi termini, diciamo, senza pensarci un attimo su questo centro specialistico presente qui a Campobasso. Sì, oltre a Massimo Oddo, poi, in passato abbiamo avuto anche il piacere di operare il sindaco di Pescara, ultimamente anche il sindaco di Ascoli, nonché Mauro Esposito, che se non vi ricordate era il giocatore del Cagliari di Langella e Suazzo. Perché? Perché diciamo che ormai per noi chirurghi trovare, come lo chiamo sempre con Francesco, il Luna Park dell'Oculistica, perché questo ormai in termini di attrezzature è diventato veramente, per noi chirurghi, il massimo nel centro Italia. E quando parlo di centro Italia includo anche Roma, cioè gli oculisti saprebbero bene, entrando qui, cosa c'è, cosa possono fare, è la figura che fanno un po' per capacità e un po' soprattutto per le attrezzature. Oggi per me operare Oddo, insieme con il collega Laurelli, con un'attrezzatura come questa, diciamo che in realtà non l'ho operato né io né Laurelli, ma sono queste attrezzature che abbiamo che fanno il 50% del nostro lavoro. E sicuramente vi posso assicurare che nelle prossime settimane avremo il piacere di richiamarvi. Quindi sono delle operazioni anche non invasive, assolutamente non invasive? Sono le meno invasive che attualmente ci siano. Soprattutto non le banalizziamo mai, però dire che ormai siamo nel 2016 e operiamo con tecniche del 2016, pochi centri lo possono dire. Questo lo ha detto nel 2015, nel 2014 e negli anni precedenti sempre il centro Laurelli. Io ho avuto varie proposte, sono sempre rimasto in questa struttura perché non è una questione economica, dove gli accordi si prendono, si sfasciano, si rifanno, ma è quello che hai a disposizione. E qui qualsiasi novità, se ne parla con Francesco, si compra, si compra, si compra. Anche a volte facendo sacrifici mostruosi, perché purtroppo l'oculistica, quella dell'anno scorso, non è quella di quest'anno. Ma se vuoi avere certi personaggi e giustamente qualsiasi tipo di paziente deve avere il massimo, il massimo lo devi purtroppo comprare anno per anno.